Alcuni genitori pensano che dando ai loro bambini il nome di personaggi noti, possano conferirli la stessa fortuna e lo stesso prestigio. A volte, però, diventa per i malcapitati pargoli una vera maledizione. Il sito Humans of New York ha riportato la testimonianza di una ragazza di nome Beyoncé. La giovane ha dichiarato, a volte odio il mio nome perché attira l'attenzione su di me e io non sono una persona molto brava a socializzare. La mia famiglia si è trasferita quest'anno dalla Pensilvania. Il primo giorno di scuola ero terrorizzata dall'idea che qualcuno me notasse. Non spostavo nemmeno la mia sedia perché temevo che avrebbe fatto rumore. Una volta avevo davvero il bisogno di tussire ma ho fatto il possibile per trattenermi. Quando l'insegnante ha iniziato a fare l'appello, sono diventata molto nervosa, perché ogni volta che le persone vengono a sapere come mi chiamo, c'è qualcuno che inizia a cantare. Single Ladies. E anche in quell'occasione qualcuno lo ha fatto. Il secondo giorno di scuola è stato migliore, perché tutti sapevano già il mio nome. Il sito, creato dal fotografo Brandon Stanton, si propone di ritrarre tramite uno scatto e una breve intervista persone che abitano nella Grande Mela. È una realtà che è seguita da milioni di persone. Così, lo sfogo di Beyoncé ha fatto subito il giro della rete. Il risultato. Tante persone che ogni giorno vivono la sua stessa esperienza, si sono fatte avanti mostrandole la loro solidarietà. Bridget Jones ha commentato. Se solo mi dessero un dollaro per tutte le volte che mi hanno chiesto del mio diario. Katy Perry ha replicato. Come ti capisco, non hai idea di quante volte facciano battute su Katy Perry. Al coro si aggiunta anche Macarena Diab. Non sei sola, so come ti senti. Non posso presentarmi che due minuti dopo la persona davanti a me sta cantando e ballando. E pensano sempre di essere i primi a fare quella battuta, io provo a riderci sopra. Chi se ne frega.